Un rinvio di ritorno a scuola all'ipotesi avanzata dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca vista la diffusione del contagio fra i giovanissimi dai 20 ai 30 giorni per raffreddare il picco previsto a gennaio evitando di tenere a casa solo i non vaccinati. Necessario sviluppare la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca, ha detto il governatore De Luca. Intanto vertice in regione tra l'assessore Lucia Fortina e i vertici delle asole campane per un monitoraggio dei contagi nella fascia 0-18 anni. La DAD potrebbe essere applicata solo nelle province con numeri più alti di contagiati ricoverati.